Si muove il mercato amaranto in vista della ripartenza della preparazione fissata per domenica 7 luglio. È ufficiale l'arrivo del terzino destro classe 2005 Niccolo Bigi proveniente da un ottimo campionato di serie D con il Sintia Alba Longa. 31 presenze lo scorso anno per lui. Il 19enne ha firmato un contratto che lo legherà con la società per due anni. In attesa di nuovi sviluppi di mercato si aspetta l'arrivo di un under in attacco che andrà ad affiancare Bombergucci. Molti i nomi sul piatto. Si parla di Francesco Iuliano classe 2004 in arrivo dall'eccellenza o di Yuri Armini 6 gol per lui lo scorso anno in serie D o di Yuri Limongelli del 2004 che potrebbe arrivare dal Nuova Florida dalla serie D. In difesa sembra ormai certa la permanenza di Lorenzo Coccia terzino sinistro che lo scorso anno arrivò in prestito dal Modena e che la società Amaranto vorrebbe tenere. Oltre al calcio maschile è attivo anche il mercato per quello femminile. Bella la riconferma per la bandiera Razzolini. 169 presenze con la maglia dell'Arezzo e 89 gol segnati che continuerà a legarsi con la società Amaranto grazie al rinnovo del contratto già firmato che la porterà a giocare ad Arezzo la nona stagione consecutiva.